A volte ritornano Paul! Raga, ehm... Cosa ho detto qui? Irene... Ah, stanno giocando, ok Francia e Jonno Stanno giocando Felipe e Dario stanno giocando Felipe e Dario c'è niente Eh... Cartina e Tamenco, allora Dove sono? Gioca con Tamenco Penso sempre Vediamolo nel ball Niente, stanno giocando Basta Arriviamo prima del final E sta la loser base Intanto vediamo Il signor Dario E un'altra volta si è più ottimato Nooo No, l'inirica ha giustato a sé Non si lo fa bene tanto Eh, ciao, eh Eh... 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 Nel suo paese E... Anche la prossima Felipe, diciamo che... Sì... Cosa cazzo per la pista? No, no! Ho vitto più neuloni di un mono Eh... Eccolo Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè 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 Ma... Quello è un'ottima cosa Vabbè 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 Quanto posso... Quanto più Allora 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 Invece Uno, due, tre Questa è già Questa è già Questa è la campione Questa è giù mi dico Vediamo qua Eh... Questa è la capacità di essere buona Questa è la placata di essere buona Tre postazioni possono essere Ok, quindi Quando ho scelto la tablino Questo è qua A presto E ho bisogno di mezzo Allora Che stai Dario, ma non ha beccato uno di 6bili e killa, eh? Io boh! Ma non esiste 6bili ma che killa, dai! Ma solo su di me funziona, intorno a me mi ha killato a 30! Intorno a me mi ha killato a 30, se solo su di me funziona! A parte che sta vincendo e sono un coglione, penso che sembra di... C'è, non scherzano, si è suicidato mi grabbando il corner, perché Dario a stasera non ha imparato altarsi e spudare, non ce l'ha imparato, devono fare più una serie di acrobatie incredibili che mi pare, ma non ha ancora imparato che puoi alzarti e spudare ancora, non è inconcepibile questa cosa! Il meta se sarese ha preso una tragestione, poi c'è anche da dire che ora c'è il meta ulteriore, visto che c'è un baionetta, non c'è più, ti alzi e spudi, ti alzi e ti ti alzi e ti ri with time, guarda come il babà! Mi chiacco così, perché non ho visto nessun match oggi, mi sa! lo snapback probabilmente! vai fall! andiamo in che leo! no è tweak, è tweak! tweak, non so qui solo per... per farsi grabbare da marfa, un doppio! un sacco di volte farsi grabbare da marfa! non so non scendere e spudare, stanno erdoggiare sulle bombe! che! ah come ho si! che! 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 è finito ok ho riusc�� non è queste NER NER Fai il bich la piatta? JBLOK MUTH BISH Eeeh... in cante Non puoi fare un cazzo dal JBLOK Si Ma nooo Può dappertutto non fare un cazzo dal JBLOK Allora, l'ho fatto di AI togliata Aspetta per il colso Si ho tempo Potete giocare anche adesso Si Si Hai Sarebbe meglio in realtà Sarebbe meglio Eeeh... Viss 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 Cazzo è carico Ma noi No, cazzo è vero E albino Vabbè Non poi la finisce di parlare Tra l'ho tra l'histo Perché non l'ha fatto di infinita Perché Dario non l'ha fatto di infinita Perché Dario non l'ha fatto di infinita Eeeh Ok, niente Lo so dito Ah, lo so Un po' tu Va bene Va bene Va bene Cazzo 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 Si sono pensato di caricare il voto completo però ci sono dei set interi bene o male E' vero In base di tutto in realtà Allora Potrei occuparmene io Potremmo fare una collaborazione incredibile Tu tagli i voto e io faccio le tanti Esatto possiamo fare i voti con me Ma Ma Avete Però se ne riparla troppo ai giorni tra quando torna a Sassari Quando mi riprendo A parte che devo ancora fare i voto E' l'ultimo torneo nostro Un'ora o due massimo a fare Vabbè stavo facendo altro Non mi hanno coperto Intanto vediamo Non even di più Non capisco come non stanno morendo Fica Gigaflet Fantastica Che tappa tappa In mezzo al gigaflet Cioè fa un po' di scordio Hai messo anche il mezzo di tappa Per karting Per karting Per karting Per karting Per karting Sì Vuoi fare film Eh vai via Vengo prima Volevo giocare la winner final Castina a Tommy Quando guarda No no Magari la mandiamo in stream Bella eh La mandiamo in stream La ho già detto La fete al video park La fete al video park Questa è stoppa la firma Megaflet in faccia non è abbastanza Gigaflet Ti pesa Gigaflet Mio madre E rispondi Ultima Sotto Fla 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 Beh, non ha un spazio incredibile. Niente, non ti down smash, non pensando alla percentuale. Non punisce la B, maligno, maligno. Ok, però lo ferma quando deve essere a dire. Ora, se non si fa fare il drag, c'è il... Non sta punendo, non sta punendo. Ab, non è perso l'alto. Quella era una kill. Dario sta un po' sfigando le kill. Ha fatto un Ab, che avrebbe killato, ma ha preso con l'eatbox interna. Ha devolato verso l'alto. È tornato dal 2-2. La Reed, è la kill. Bella Dario. Felipe, questa nuova figura. Se ne va a giocare contro Gabri, non easy.